Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Le anticipazioni turche di Terra Amara saranno ricche di novità che non mancheranno di tenerci incollati davanti allo schermo. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su Fikret. Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo a un incidente aereo nel quale perderà la vita Mujigan. L'evento sconvolgerà Fecheli e porterà Fikret a rivedere le sue priorità. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate. Terra Amara, anticipazioni straniere, Mujigan muore. Fikret, giunto a Kukurova con l'intento di distruggere il fratellastro Demir, non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti per Mujigan. Il nipote di Fecheli inizialmente sembrerà mettere da parte ciò che prova per la dottoressa, pur di dedicarsi anima e corpo alla sua vendetta personale. A poco a poco però assisteremo ad un cambiamento profondo in lui, che lo porterà a rivedere le sue priorità. Fikret sarà pronto a ricominciare da capo, anche sotto il profilo sentimentale, e chiederà a Mujigan di sposarlo. Purtroppo però un incidente mortale spazza via i loro progetti. L'aereo nel quale la dottoressa viaggia precipita in mare, e nessun passeggero riesce a salvarsi. Mujigan, dopo la morte di Yilmaz, aveva deciso di cambiare vita e trasferirsi ad Istanbul, approfittando di una nuova opportunità lavorativa che la vedrebbe come primario in un prestigioso centro ospedaliero. L'unico a conoscere, inizialmente, la decisione della donna sarà Fekeli, a cui Mujigan chiederà di occuparsi, per alcuni giorni, del bambino per consentirle di partire e sbrigare qualche pratica. Poco prima di prendere l'aereo per recarsi a Istanbul, Mujigan avrà un ultimo confronto con Zuleya. Entrambe si rinfacceranno il male che si sono fatte, promettendosi di non dimenticarlo mai. La dottoressa, quindi, partirà mentre Zuleya sarà sollevata dal non avere più la rivale vicina. Poco dopo il decollo dell'aereo, però, qualcosa non andrà per il verso giusto. L'aereo precipiterà in mare, e non vi sarà alcun sopravvissuto. L'annuncio dell'incidente verrà dato alla radio e Mujigan, quindi, morirà così. Fikret sarà disperato per la morte della donna che avrebbe voluto sposare. Con la morte di Mujigan il giovane sprofonda nello sconforto, in un dramma dal quale sembra non riuscire a riprendersi. Al suo fianco ci sono Fekheli, che dopo essere stato costretto a seppellire il figlioccio deve dire addio anche alla nuora, e il piccolo Keremali, che si ritrova così orfano di entrambi i genitori. Spoiler turchi terra amara, Fikret adotta Keremali. Fikret chiede allo zio di poter crescere il piccolo Keremali, e Fekheli rimane colpito dalla decisione del nipote. Fekheli sarà quindi sorpreso dall'offerta di Fikret di diventare il patrigno di Keremali e, ancora di più, da una richiesta che il ragazzo gli farà. Sebbene sarà lui a occuparsi del piccolo, infatti, chiederà allo zio di adottare legalmente il piccolo, in modo che, così, diventi l'erede della fortuna costruita dall'uomo. Un gesto, ovviamente, che serve a dare un futuro sereno al piccolo, proprio ciò che a Fikret è stato precluso. Fekheli, ovviamente, accetterà la richiesta con molto piacere e senza nessuna obiezione. Tuttavia, l'iter si rivelerà più impegnativo del previsto. I membri della famiglia di Mujgan, che risiedono negli Stati Uniti, bloccheranno l'iter. La ragazza non andava d'accordo né con la madre né con il fratello, ma sembra che quest'ultimo abbia chiesto al tribunale la custodia del bambino. Per questo motivo, l'avvocato della famiglia intende portare via Keremali dal ranch di Fekheli, ma Fikret, Fekheli e Lutfai non glielo permettono. L'avvocato del fratello, Mujgan, alla fine getterà la spugna e se ne andrà senza il bambino, ma assicura le tre parti che presto saranno in tribunale. Fekheli dovrà rafforzarsi per affrontare questo nuovo problema, oltre all'agonia della perdita di Mujgan, ma non sarà l'ultimo. La badante di Keremali, Nazire, lo informerà che il bambino è molto malato, vomita e ha la febbre alta. Lo trasporteranno subito al pronto soccorso. Fikret quindi dimostrerà tutta la sua umanità e sotterrerà l'ascia di guerra rispetto alle sue iniziali intenzioni. L'uomo è raggiunto infatti a Kukurova con l'obiettivo di distruggere in mille pezzi la vita del suo fratellastro. Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere terra amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della SOP Regina del daytime pomeridiano di Canale 5. Per questo vi invitiamo ad iscrivervi subito al canale per non perdere nulla delle prossime puntate. Grazie, a presto!